Dottore Benanzi, l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso e dell'elisoccorso, quanto è importante che la sanità sia sempre accanto al cittadino anche con l'innovazione? Per noi è un'inaugurazione importante perché il vecchio pronto soccorso creava problemi logistici sia ai lavoratori che agli utenti. Oggi con il nuovo pronto soccorso, con spazi ampi dove la gente può trovare comfort, raccoglienza eccetera, diventa completamente diverso. Quindi per noi è un'inaugurazione importantissima.